Mazzolini alle sue spalle c'è il centro sportivo ormai ultimato, quando sarà l'inaugurazione? Il 10 luglio prossimo, giovedì 10 luglio alle 17.30 inaugureremo con molto piacere il centro sportivo rinnovato e quindi approfitto dello spazio per invitare la popolazione, i cittadini di Ponte Nossa a partecipare a questa inaugurazione. Cosa avete eseguito con questo intervento? L'intervento partirei a fare un passettino indietro, da aprile l'anno scorso 2013 come amministrazione abbiamo fatto il punto della situazione e l'opera pubblica che nel programma elettorale del 2009 non aveva avuto ancora riscontro era appunto il centro sportivo quindi come ultimo anno di amministrazione abbiamo cercato di concentrarci per trovare una soluzione e soprattutto le risorse per poter intervenire. Siamo stati anche fortunati, una società presente sul territorio ha demolito e ricostruito una capannone industriale quindi c'è stata la possibilità di avere a disposizione degli oneri, sto parlando di circa 250 mila euro. Abbiamo avuto così l'idea di non incassare gli oneri ma di fare intervenire direttamente il privato, l'operatore privato che a scomputo degli oneri ha realizzato l'opera per conto del comune. Quindi in questo modo siamo riusciti a evitare i vincoli che il patto di stabilità impone agli enti locali e in questo modo con poche risorse investite direttamente dal comune siamo riusciti a intervenire nel giro di un anno a concretizzare l'opera. Io questo lo vorrei sottolineare perché per un comune piccolo come Ponte Nossa, quindi meno di 2.000 abitanti dall'idea di intervenire, reperire le risorse e progettare, cantierare e terminare un'opera che comunque sto parlando di circa, a opera finita di circa 350 mila euro. 250 appunto del privato, 60 alla fine circa 60 mila euro messi da parte del comune e poi dall'operatore privato che invece gestirà il centro sportivo che ha creduto con noi in questa scommessa altri 60 mila euro, forse anche qualcosa in più visto che, visto l'ottimo rapporto e vista la fiducia ha investito anche oltre quanto avrebbe dovuto al comune. Stiamo parlando quindi di circa 350 mila euro. Oltre all'opera abbiamo costruito un bando molto selettivo in quanto il centro sportivo che aprirà il 10 di luglio non darà la possibilità al gestore di utilizzare le cosiddette slot machine quindi un locale no slot, molto selettivo da questo punto di vista e molto selettivo perché il gestore ha dovuto mettere l'intero importo, quindi stiamo parlando di quello che era la base dell'asta di 60 mila euro subito, quindi selezione anche perché non chiediamo affitto, 8 anni rinnovabili altri 8 ma nel giro di un anno, forse anche meno, il gestore ha già investito praticamente anticipato l'equivalente del canone degli 8 anni. Quindi siamo stati determinati nel raggiungere questo obiettivo, lo raggiungiamo in poco tempo bene, ogni centesimo che è stato investito sul centro sportivo è stato investito in maniera molto oculata, non erano molte le risorse perché comunque per chi poi visiterà i locali si renderà conto anche del lavoro veramente ottimo che è stato fatto e quindi invito nuovamente la popolazione di Ponte Nossi, curiosi, il 10 luglio a intervenire a questa inaugurazione. Per quanto mi riguarda, come rappresentante dell'amministrazione sono molto soddisfatto, ringrazio, devo ringraziare molte persone a partire dall'amministrazione uscente, i nuovi amministratori che hanno raccolto questa sfida e portato a termine i lavori e le molte persone che hanno collaborato con il comune al buon esito di questa impresa, quindi mi riferisco all'operatore privato Ponte Nossi SPA, ai gestori che hanno creduto nel bando, al tecnico comunale che ha lavorato davvero assiduamente in questi mesi, ai tecnici progettisti, quindi l'ingegnere Maninetti, l'ingegnere Savoldelli, tutte le imprese che veramente hanno dato la massima disponibilità nel raggiungere in poco tempo e bene questo obiettivo che era fondamentale per la nostra amministrazione, per il nostro paese.